all'interno dell'azienda. L'azienda è stata completamente silente ed ha approfittato appunto della tecnologia per tagliarci fuori. Quelle parti contro cui noi vorremmo stagliarci è questo utilizzo della tecnologia piuttosto che finalizzato a migliorare la condizione dei laboratori, a favorire una migliore distribuzione del lavoro e tutelare maggiormente i laboratori. La tecnologia in aziende come Sudora viene utilizzata per tagliare più facilmente fuori i soggetti scomodi oppure quelli che non rendono quanto l'azienda vorrebbe che la rendessero. Vorrei chiederti anche cos'è successo dopo. Io ricordo che i nostri microfoni avevi già raccontato delle difficoltà incontrate nel raggiungere tutti i vostri colleghi per prendere delle decisioni, visto che Sudora è governata diciamo secondo il principio del divide-timpera. Sì, ebbene sì, la nostra situazione è servita da esempio. L'azienda a seguito della mobilitazione ha fatto capire chiaramente che chi agisce collettivamente cerca comunque di portare avanti delle dimenticazioni che non coinvolgano il singolo individuo che si reca nell'ufficio a chiedere turni, spiegazioni o magari a cercare di contrastare delle condizioni migliori viene completamente tagliato fuori. Quindi a instaurare l'azienda ha messo in chiaro che comunque vige un clima intimidatorio, dove comunque i provenimenti disciplinari sono all'ordine del giorno e dove ogni lavoratore è facilmente sostituibile con lavoratori che possono essere reclutati con un slip. Tu però Peppe nel frattempo hai preso una decisione importante, non lavori più con Sudora, però hai deciso di continuare a lavorare nel settore delle consegne in bicicletta. Posso chiederti perché? Sì, non solo io, ma tutti gli altri ragazzi che hanno seguito più attivamente la protetta, perché comunque siamo convinti che questo settore, a prescindere dal solo food delivery, sia un settore che merita attenzione e che merita soprattutto tutela. Per prima cosa perché è un settore che comunque si sta espandendo, in secondo luogo e soprattutto perché crediamo che comunque la mobilità in bici sia una forma di mobilità da incentivare perché può risolvere tantissimi dei problemi che ci sono in città, dal punto di vista dell'inquinamento, dal punto di vista degli spazi, muoversi in bici in città come Torino è facile e soprattutto potrebbe anche evitare di dover sostenere delle spese per delle cementificazioni o parcheggi che comunque potrebbero essere uniti. Quindi crediamo nella mobilità in bici e crediamo appunto che possa essere una risorsa per la città e possa essere anche un modello da esportare e da seguire come comunque succede in tantissime capitali europei. Grazie a tutti. Bene, allora accendiamo i microfoni qui da Radio Rete Dicole. Avete appena sentito due testimonianze. Una del segretario delle SLC Balili, Marco Balili di Modena che ci ha parlato della Edis, una azienda della Galassia Panini che nello specifico provvede all'imbustamento delle figurine e del licenziamento di ben la metà del proprio organico. Abbiamo con Marco parlato della nostra esperienza invece della Panini, di quello che abbiamo raccolto in questi mesi, il tentativo di depauperare, proprio il caso di dire la filiera, quindi sfruttare finché è possibile e poi chiudere un'esperienza ormai quasi centenaria o comunque importante. Poi ci siamo spostati a Torino con questo servizio di Radio Articolo 1 che ci ha parlato delle nuove frontiere dello sfruttamento digitale o meglio come si può sfruttare un lavoro tradizionale, quello dei fattorini in bicicletta, quindi consegna di pacchi e vivande, cibo, attraverso un'applicazione, non c'è più il padrone, non c'è più la fabbrica, non c'è più l'azienda di servizi, c'è solo un'applicazione sullo smartphone o quant'altro, sul tablet che indirizza anche il lavoratore e se il collaboratore non si comporta bene automaticamente l'applicazione lo licenzia, è proprio il caso di dire. Adesso cambiamo argomento, abbiamo con noi come avete sentito nel sottofondo a Milcare Rigioni, buongiorno Milcare. Buongiorno Fabio e buongiorno a tutti. Con il quale ci scusiamo di questo piccolo ritardo, questa mattina siamo stati un po' intasati di servizi e spunti e del resto è una radio che piano piano ma cresce, cresce nella qualità, cresce... È una radio vivace, è una radio vivace. Forse troppo. No, lo dico perché c'è l'età, quindi proprio in questi giorni mi ha colpito un mal di schiena di quelli proprio inenarrabili, quindi sto abbarbicato sulla postazione e mi rendo conto che con questa vivacità devo un po' abbassare i giri. Va beh, al di là della battuta. No, una radio vivace che ha consolidato gli ascolti, colgo l'occasione per fare un piccolo spot pubblicitario, ha consolidato gli ascolti, li ha consolidati tra l'altro tra gli edicolanti, perché prima comunque pescavamo anche fuori, adesso invece ci stiamo consolidando tra gli edicolanti e questo mi fa molto piacere e ha aperto da alcuni giorni un'interlocuzione interessante anche con gli altri mondi, con i mondi satellitari rispetto all'edicolante, visto la notizia di oggi su tutte le prime pagine dei giornali di queste sette sorelle della terra, distante 40 anni luce da noi, quindi che non raggiungeremo mai, però ogni tanto ci piace sognare. Dicevamo appunto mondo della distribuzione, mondo editoriale, faremo altre interviste, sono già in programma per la prossima settimana, abbiamo sentito Alberto Mazzantini, nei giorni scorsi c'è stata la risposta di Giuseppe Marchica, quindi la linea del sindacato su questo la conosciamo, però ho chiamato lo stesso Amilcare che ringrazio ancora una volta di essersi prestato per questa interlocuzione anche su questo tema, perché è un bello spunto questo del dialogo, del confronto con i piccoli editori e quindi mi interessava sapere da lui quali altri elementi si possono sviluppare da qui e come il sindacato in qualche modo, non in quanto sindacato, quindi non in quanto soggetto di trattativa o divertenza, come il sindacato come struttura territoriale può in qualche modo intercettare questo stimolo e riprodurlo, quindi avere altri distributori, altri piccoli editori con i quali interloquire. A te la parola Amilcare. Sì Fabio, innanzitutto, come posso dire, preciso la cosa, il titolo della puntata di oggi dice, aspetta che lo vado a vedere, intervento di digiuni su intervista a Mazzantini, cioè quindi non ho nulla diverso e di più da replicare rispetto a quanto detto ieri da Giuseppe Marchica sostanzialmente, quindi nello specifico non abbiamo nulla da aggiungere e da precisare. Mi è interessato intervenire in questa discussione prendendo spunto appunto da quanto detto sia da un editore, diciamolo così piccolo e il nostro segretario generale. Per entrare in un tema un po' più specifico e quindi dare anche corpo e sostanza al ruolo della radio che ha nel mondo intero, perché il mondo non è solo quello che sta all'interno delle quattro mura o delle quattro, posso dire, lamiere dell'edicola. C'è un mondo esterno, uno direttamente collegato a noi che sono quello dei distributori e del mondo editoriale e l'altro poi è il mondo proprio, quindi queste interviste che hai appena fatto su questi sistemi nuovi di lavoro con le app eccetera eccetera è importante e fondamentale. Io dico la tecnologia va bene, ma la tecnologia dovrebbe essere in funzione dell'uomo e non in sostituzione dell'uomo, quindi stiamo un attimino attenti a come usiamo la tecnologia perché altrimenti ci faremo solo del male, questa è la mia idea. Nello specifico sulla questione, sulle elementi emersi nel ragionamento con un editore è utile, è utile perché porta in risalto magari contraddizioni che ognuno rimanendo nella propria parte magari non le vede, ma ascoltando gli altri ecco che vengono le contraddizioni e la prima che porto in evidenza è questa, tolgo i nomi perché con i nomi sembra troppo di personalizzare, ma parla di sistema in generale. Nell'intervista del distributore il distributore dice beh ma cosa volete noi non possiamo fare nulla perché quello che ci dice l'editore barra distributore nazionale che parla per il conto dell'editore, quello che ci dicono loro di fare noi facciamo e poi l'editore che dice ma io chiedo di fare alcune cose al distributore nazionale perché è lui il mio interlocutore, è lui il soggetto con il quale io rapporto, gli chiedo di fare alcune cose, magari il distributore nazionale mi dice va bene si fanno e poi sul territorio non vengono realizzate. L'esempio l'ha fatto anche Giuseppe magari parlando invece del rapporto preciso con il distributore ma quando ha parlato dell'incontro per il rinnovo dell'accordo che è uno dei temi dei tavoli e quello del censimento dell'edicole dicendo che il nostro giornale che noi chiediamo al distributore nazionale di distribuirne una copia per edicola indipendentemente dai venduti precedenti etc. perché il nostro giornale ovviamente non è un'operazione commerciale, è un'operazione politica chiaramente, quindi il fatto che il giornalaio non lo trattiene per sé, cosa che noi auspichiamo perché questo ci aiuterebbe a pubblicare gli altri numeri, quindi è un sostegno, non lo chiamo finanziamento, ma un sostegno indiretto al modo in cui poter portare informazioni alla rete di vendita. Ecco dicevo che nonostante queste indicazioni il nostro giornale viene invece di essere distribuito una copia per edicola, ci sono edicole che non lo ricevono, edicole che lo ricevono 5 copie, non arrivano nei numeri adeguati ai distributori locali, quindi è ancora un mondo sostanzialmente che è fuori controllo, non ha regole che si possono rivendicare. Ognuno fa un po' come gli pare e speriamo che vada bene poi alla fine, questo è un po' il sistema. Quindi questa nostra esperienza anche noi di piccoli editori con la nostra testata informativa, riscontriamo quelle problematiche che nell'intervista di ieri l'editore ha evidenziato e la contraddizione e quindi ha portato a galla la contraddizione di quell'affermazione del distributore locale. E quindi questo è un tema di discussione, di approfondimento che va valutato. Un bel rebus devo dire. È un bel rebus, verrebbe da dire che il mondo dell'editoria è un po' ostico alla trasparenza. E questo apre 100 mila altre porte. Sei diplomatico. Eh sì, cerco di esserlo perché è d'obbligo. Eh ma con la crisi non si scherza però, il punto è questo. Cioè finché andava bene allegra gestione, adesso? Adesso esatto, esatto. Bisogna, bisogna che le cose debbano essere fatte bene. E come dici tu, cioè finché si vendevano 4 milioni, 4 milioni e mezzo di copie di quotidiano al giorno e il mercato era ricco e andava bene tutto. Adesso che invece conta anche il centesimo, eh allora quei giochini di una volta, eh oggi non reggono più e quindi l'unica cosa che può far stare bene un meccanismo è che questo meccanismo funzioni bene e giri bene. L'ho detto, eh scusa, ti interrompo. Qui il domandone, sono attrezzati a farlo girare bene come dovrebbe o non conviene oppure sarebbero attrezzati ma non conviene perché comunque sempre nel torbido poi c'è qualcuno che può avere vantaggi? Io sono più libero e la dico così, fammela dire.